Ancora una volta Arezzo dà prova della generosità e della solidarietà che la contraddistinguono. A poche ore dalla firma della convenzione, tra le associazioni degli albergatori e la regione toscana, già tre strutture aretine hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i profughi ucraini. È il sindaco di Arezzo a ringraziare gli hotel continentali Minerva ed Etrusco per aver risposto prontamente in questo momento di emergenza. Noi come famiglia Fabbrini, fin dai miei genitori, siamo sempre stati sensibili a questi grossi problemi, a queste emergenze. Quindi è nata un po' anche l'idea tramite l'associazione albergatori di coinvolgere varie strutture. È stata fatta questa domanda a tutti gli alberghi di Arezzo. Chi aveva la disponibilità, certo strutture più piccole, probabilmente rispetto a noi, continentali Etrusco, hanno più difficoltà di camere. Anche se al momento non si parla di un preciso contingente di camere, c'è stata la richiesta eventuale di poter alloggiare queste persone. Insomma, noi abbiamo dato la disponibilità, siamo ben felici. Poi vediamo un po' in base anche ai numeri che saranno, perché al momento si prospetta, non sappiamo proprio, si brancola un pochino nel buio a livello di numerazione. Però ecco, a livello di disponibilità siamo stati contenti di poterla dare, perché insomma è un problema veramente molto grosso. Mi sembra il momento giusto per farlo, per cercare di fare il nostro piccolo in questa crisi umanitaria che è veramente drammatica, devastante sotto tutti i punti di vista. Noi come albergo abbiamo dato, e come tanti miei colleghi, abbiamo dato la nostra disponibilità ad accogliere questi profughi che vorranno uscire da quell'inferno e venire qua da noi. La vostra sarà una prima accoglienza, ovviamente il programma è ancora tutto la definita. Sì esattamente, ancora non sappiamo con certezza quali siano le particolarità e le regole strette, diciamo. Per il momento noi siamo come prima accoglienza, potrebbe essere un 24, 48 ore, 72, vediamo, noi siamo qua e aspettiamo loro. Oltre a loro, anche altri alberghi e bed and breakfast starebbero per formalizzare la loro disponibilità. Si tratta di possibilità di impiego di queste strutture solo nel caso di indisponibilità, conferma ghinelli ed esaurimento dei posti nei centri di accoglienza straordinaria che rimangono la destinazione stabilita per coloro i quali provengono dalle zone di guerra.